Soprattutto nel finale il Bitonto ha premuto molto per cercare questo pareggio che probabilmente avrebbe anche meritato. Ma è stata una partita, noi siamo da quattro giorni insieme, quindi dovevamo soltanto cercare di portare a termine fino al novantesimo in bilico. E questo è stato anche una cosa positiva che ha detto alla squadra. Poi, lo sapete benissimo, loro potevano arrivare prima su tutte le pale, avevano una preparazione sicuramente migliore della nostra, stanno a 40 giorni in più. Quindi, abbiamo rischiato fino all'ultimo, abbiamo concesso pochissimo, loro a parte quel secondo tempo, a parte quel tiro da 30 metri, per il resto li abbiamo molto, ma molto contenuti. Poi, la differenza la fanno chi sta in panchina, non aveva un grande in panchina, la preparazione, non abbiamo fatto una partita amichevole, non abbiamo fatto un lavoro tattico. Ci siamo riuniti in settimana e alcuni giocatori sono arrivati pure martedì e mercoledì, quindi tenere in bilico fin dall'ultimo per noi è stata una grandissima cosa e ho dato i ringraziamenti alla squadra perché veramente si è coperata bene. Ampi margini ovviamente di miglioramento per questo Bitonto, però adesso come si preparano le gare che in realtà incombono senza avere tutte queste caratteristiche? Ma guarda qua i miracoli non li fa nessuno, noi dobbiamo cercare, abbiamo costruito una buona squadra e quindi arriveranno altri giocatori la settimana prossima, dobbiamo cercare di migliorare, di alzare l'asticella settimana in settimana. Questo è il guardando in casa nostra, poi non si guarda dalle altre parti, noi guardiamo i nostri giocatori, dobbiamo cercare di recuperare qualche giocatore importante che non ha fatto la preparazione, stiamo lavorando sui singoli e cresceremo di settimana in settimana. Per chiudere, com'è tornare sul terreno di gioco dopo praticamente sette mesi? È un po' in qualche modo un'emozione insomma? A me non sono sette mesi, a me è un anno purtroppo, quindi diciamo che ho finito qui e inizio qui. Il fatto che si torni a giocare è qualcosa di bello, perché questo è lo sport più bello che tutti quanti pratichiamo, sperando che si continui e che non abbiamo altre ricadute. Però manca ancora qualcosa perché mancano i tifosi, forse la cosa più importante perché manca lo spettacolo, manca gli sfottò che sono sempre ben accetti quando non si offende nessuno, sperando che nelle prossime partite avvenga questo e ritorni il calcio, lo spettacolo del calcio.